Proprio lui! Wow! Mi piace questo covo. Laboratorio. Sotto scala. Sequenziatore. Campionatore. Molto vintage. Li usavano di sicuro lui e papà. È sempre stato un grande con la chitarra. Veniva sempre a cena da noi. Immagino che non abbia mai imparato a cucinare. Sfrutta i suoni. Lucchetto a frequenza. Quante sorprese. Visto il costume, ragazzo. Mi hai chiesto perché io e tuo padre abbiamo smesso di parlarci. Lui stava indagando su Prowler e arrivò ad alcuni miei clienti, persone come Simon Krieger e Wilson Fisk. Ma non poteva sfidarli. Sarebbe stato un rischio anche per te e Rio. Quindi gli dissi la verità. E lui decise di rinunciare in seguirmi. Per sempre. Mi escluse dalla sua vita e dalla tua. Spero che quel costume ti aiuti a essere migliore. Abbi cura di te, Spider. Grazie, zio Aaron. Di tutto. Di tutto. Spero. Spero.